Dall'utilizzo smodato dell'alcol, la dipendenza dai social, l'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme sugli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, il Veneto ha due primati negativi. I social sono una droga, una dipendenza per i ragazzi degli 11 ai 17 anni, connessi fino a 7 ore al giorno, rapiti da immagini di perfezione estetica e appagamento che sui social trionfano, modelli che vorrebbero emulare ma che troppo spesso si scontrano con la vita di tutti i giorni, dove l'insoddisfazione e la tristezza sono dietro l'angolo. Secondo il rapporto sulla salute degli adolescenti, presentato dall'Istituto Superiore di Sanità, sono proprio i ragazzi veneti ad avere il livello più basso di soddisfazione per il proprio stato di salute percepito, il 24,3% non lo ritiene buono e per la propria vita il 29,7% si dice scontento. Per gli esperti di dipendenza la causa va ricercata proprio nell'abuso di internet e nella poca attività fisica, il 29,4% dei ragazzi veneti dichiara di non fare mai sport durante la settimana, la maggioranza sono ragazze. Incrociando i dati regione per regione, dove si fa più attività all'aperto si sta meno attaccati ai social e quindi di conseguenza meno problemi di sovrappeso, miglior salute fisica, miglior percezione della propria salute fisica e se vogliamo gente più contenta, ragazzi più contenti, più soddisfatti. Da qui la proposta di incrementare l'attività fisica nelle scuole. Potrebbe essere utile anche a livello culturale, quindi a livello scolastico penso soprattutto, reintegrare maggiormente l'attività fisico-sportiva. Altro capitolo in cui il Veneto primeggia il negativo, la dipendenza da alcol. Le ragazze fanno gara con i ragazzi per numero di drink. Il 75% dei 17 anni dice di consumare alcol almeno una volta al mese, di cui un quinto ogni weekend. Il 52,4% degli adolescenti si è obbrecato almeno una volta nell'ultimo mese. Troviamo più dei fenomeni di binge drinking, quindi magari degli episodi più circostanziali durante la settimana dove si consumano grandi quantitativi di alcol in breve periodo. E molte volte vediamo che li utilizzano a scopo, io lo chiamo quasi psicofarmacologico, cioè nel senso vanno a regolare il proprio umore. Comportamenti questi che la medicina delle dipendenze all'interno del Policlinico di Borgo Roma, centro di riferimento per il Veneto, cura in assoluto anonimato. Il consiglio che do ai genitori è quello di metterci il naso. Cosa significa? Di provare a capire, insieme ai figli, deve essere un rapporto collaborativo e partecipativo, che cosa fanno online, cioè quindi chiedere quali sono le esperienze che fanno, provare a farle anche loro, quindi provare a metterci proprio i piedi dentro per capire che cosa vuol dire per esempio un trend piuttosto che un altro, andare a osservare quindi e vivere le stesse situazioni che vivono i figli, ovviamente con l'occhio dell'adulto chiaramente. Grazie a tutti.